Prosegue il piano dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori d'asti contro i furbetti della differenziata, cioè coloro che gettano i rifiuti fuori dal giorno previsto o che effettua male la divisione dei rifiuti. Proprio d'asti comunica alla cittadinanza i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale che continueranno fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta. Dal report emesso dagli agenti nei giorni dal 7 novembre al 12 novembre scorso sono stati 53 controlli, 35 i rifiuti erano regolari, 18 non conformi. Gli accertamenti sono stati effettuati in Viale Stefano Candura, strada dietro Palazzetto dello Sport, Piazzale Pian del Lago, Contrada Bulgarella, Via Concetto Marchese, Via Vassallo, Via Napoleone Colagliani, Via degli Orti, Via delle Calcare, Via Capitano di Martino, Corso Umberto. Per chi volesse verificare i turni di corretto conferimento sul sito d'asti si può facilmente consultare e scaricare il calendario che prevede per la zona A il ritiro lunedì dell'organico, martedì del secco residuo, mercoledì dell'organico, carta e cartone, giovedì plastica, vetro e metalli, venerdì e sabato organico. Per la zona B lunedì organico, martedì plastica, mercoledì organico, vetro e metalli, giovedì secco residuo, venerdì organico, carta e cartone, sabato organico. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.